Salve a tutti carissimi cinefile carissimi cinefile ben ritrovati in questo nuovo video dunque oggi voglio mostrarvi tre film, tre articoli che mi sono arrivati dalla CG Entertainment sono ordini che ho fatto il dicembre dello scorso anno più una sorpresa che francamente non mi aspettavo e che poi vi mostrerò quindi cominciamo subito con il primo titolo è frutto di una start up, è i Basilischi come potete vedere il film d'esordio della regista Lina Wertmüller è un'edizione chiaramente limitata, la mia copia è la 146 su 500 ed è un film veramente molto bello io quando l'ho visto sono rimasto positivamente colpito da quello che reputo uno dei migliori esordi della storia del cinema italiano il film è del 1963 e vede al suo interno questi tre personaggi Antonio, Francesco e Sergio questo che vedete sulla copertina nello specifico è il personaggio di Francesco interpretato da Stefano Satta Flores la vicenda si svolge nel meridione in un paesino di provincia proprio che si chiama, ve lo leggo, Minervio Murge che sta al confine tra la Puglia e la Basilicata è una terra di confine a tutti gli effetti non solo dal punto di vista geografico ma proprio dal punto di vista anche temporale dal punto di vista delle vite che conducono questi personaggi questi tre uomini che sono questi qui dietro come potete vedere sono loro i quali conducono appunto una esistenza fatta di nulla fatta di vuoto della ricerca abbastanza distratta e casuale di un qualcosa che possa smuovere la loro quotidianità in particolare c'è Antonio che è uno studente universitario che insomma vorrebbe fare qualcosa di più sente di avere una certa ambizione vorrebbe andare per esempio a Roma e stabilendosi nella capitale in una grande città una grande metropoli magari potrebbe finalmente mettere a frutto il suo talento i suoi studi eccetera ma insomma la sua incapacità di andare oltre la mediocrità la dimensione mediocre della sua vita che ormai ha assunto in modo irrimediabile ha accettato finisce insomma per accettare tutto questo lo costringe sostanzialmente all'inattività e tutto all'interno di questo paesino suggerisce che il tempo sia effettivamente sospeso sia fermato la modernità stenta ad arrivare in questo posto i sogni, i progetti si scontrano con l'inattività di questo eterno presente che sembra non essersi mai liberato delle convenzioni che vengono direttamente dal passato questo è un mondo dove addirittura le ritualità che riguardano per esempio il corteggiamento delle donne sembrano qualcosa che viene da un tempo ancestrale da un tempo che appunto sembra non essere mai del tutto passato e questa atmosfera estremamente rarefatta e immobile ci viene data grazie non solo alla splendida regia della Wirtmuller che riesce a raccontare e a descrivere le vite e gli ambienti di questi personaggi con un piglio neorealistico assolutamente però riesce a fare anche qualcosa che va un pochino oltre riesce addirittura a toccare il confine del surreale, del grottesco non lo fa in modo scoperto però si sente che in un paio di passaggi il film sembra riuscire un attimino a prendere le distanze dal neorealismo e a entrare in un'altra forma, entrare in un'altra dimensione e oltre alla regia della Wirtmuller è da segnalare la colonna musicale realizzata da Ennio Morricone è fantastica, è una garanzia Ennio, lo sappiamo ma c'è anche una fotografia assolutamente di alto livello realizzata da Gianni Di Venanzo che con questo bianco letteralmente abbagliante con queste inquadrature che riescono sia che si tratti dei primi piani sia che si tratti delle inquadrature più ampie fino ad arrivare ai totali c'è sempre questo bianco abbacinante, accecante che ti dà proprio l'idea di non di un luogo ma di un non luogo cioè un posto dove questi personaggi sono confinati perché appunto come ho detto all'inizio questa è a tutti gli effetti una terra di confine quindi alla fine emerge un ritratto abbastanza disilluso, disincantato di questa terra che sembra appartenere proprio ad un'altra dimensione sembra appartenere ad un racconto fantasy invece è proprio un pezzo del sud Italia possiamo dire che i basilischi è un po' diciamo la versione meridionale dei vitelloni che invece film del 53 del grande Fellini era ambientato a Rimini quindi se i vitelloni raccontano una realtà del settentrione ecco, quello stesso aspetto o comunque una storia una vicenda o delle vicende se vogliamo che hanno molto a che fare con i vitelloni e da cui chiaramente la Verti Müller ha preso ispirazione i basilischi invece parla di un pezzo della società della classe media comunque perché questi fanno parte della classe media del meridione che sono incastrati sono impossibilitati a compiere una qualsiasi forma di progresso la borghesia italiana che si tratti del settentrione o del meridione è una classe che appare fortemente se non addirittura irrimediabilmente cristallizzata immobile e questo chiaramente provoca tutta una certa serie di conseguenze nefaste a livello sistemico quindi questo è l'esordio della Verti Müller un film che io vi consiglio e vi consiglio tanto l'acquisto anche della startup realizzata dalla CG che ha appunto questa slip cartonata molto molto ben fatta ben curata e al suo interno abbiamo appunto il Blu-ray la confezione bella solida e abbiamo anche il booklet eccolo qua con la fotografia di Antonio qui davanti invece abbiamo Francesco e Sergio e dentro insomma ci sono tutti gli approfondimenti che sicuramente vi aiuteranno a comprendere a leggere meglio se vogliamo il film della Verti Müller bene andiamo avanti e passiamo a quello che è un vero e proprio pezzo da 90 cioè Tetsuo la startup che a dicembre la CG aveva lanciato all'interno di questa edizione si è rilimitata la mia copia è la 533 su 1000 abbiamo due film quindi il primo cioè Tetsuo The Iron Man e il secondo che è Body Hammer vi ricordo che la serie dedicata a Tetsuo è composta di tre film quindi qui abbiamo i primi due ma nel 2009 è uscito anche The Bullet Man non l'ho ancora visto anzi a dire il vero non ho visto neanche Body Hammer quindi è l'occasione giusta per poterlo vedere chiaramente conoscevo invece già il grande grandissimo esordio di Shinya Tsukamoto e film semplicemente allucinante è un qualcosa che è impossibile da descrivere cioè se c'è un film che non può essere raccontato è esattamente Tetsuo perché c'è veramente di tutto ci si può trovare di tutto ci si può trovare la tematica dell'insoddisfazione della sfera per quanto riguarda la sfera sessuale la perversione l'ossessione fallocentrica della società giapponese che porta alla distruzione dei legami affettivi che porta non lo so a esaltare e a portare fino alle estreme conseguenze la volontà di potenza dell'uomo soprattutto cioè dell'uomo come maschio e tutto questo poi si fonde in un finale semplicemente allucinante dove uomo e macchina si fondono insieme sono il perfetto prodotto di una società sempre più moderna sempre più tecnologica che però sembra smarrire in ugual misura la propria sincera umanità stiamo diventando sempre più delle macchine prive di affetto che si preoccupano più che altro dell'efficienza che si preoccupano più che altro della vittoria della competizione che si preoccupano di fare soldi di fare profitto quindi la modernità è un qualcosa che può generare invece dei mostri e questo Tetsuo è così cioè alla fine quello che emerge è un inquietante sguardo su una società che sta veleggiando verso il futuro ma senza rendersi conto che questo futuro non è così roseo non è così positivo come la tecnologia come l'evoluzione tecnologica come l'innovazione sembra promettere l'uomo in questo viaggio rischia di perdere definitivamente se stesso e ci sono anche però dei fantasmi secondo me del passato che riemergono in questo film che è in bianco e nero come Basilischi anche Basilischi in bianco e nero però alla fine di Tetsuo il fantasma del passato che riemerge soprattutto nella mentalità giapponese nell'immaginario di Tsukamoto è il fantasma della guerra nucleare è il fantasma di quello che è stato proprio l'apice della tecnologia la grande novità il momento di passaggio da un'era ad un'altra noi siamo entrati nella cosiddetta era atomica proprio con sì l'esperimento nel deserto di Los Alamos con l'esperimento Trinity però quell'arma ad un certo punto è stata utilizzata proprio sulle persone quella nuova tecnologia è stata utilizzata ad Hiroshima e Nagasaki 6 agosto del 45 9 agosto del 45 gli statunitensi gettano due bombe nucleari sulla testa degli esseri umani dei giapponesi e lì abbiamo un trauma una ferita che non si è mai ricuscita non si è mai rimarginata assegnato per sempre l'immaginario collettivo e Tsukamoto in quanto giapponese propone il momento traumatico in cui la tecnologia e l'essere umano si sono fusi anche proprio fisicamente insieme e hanno generato un enorme mostro che è la paura nucleare e questo mostro ad un certo punto sferraglia in mezzo alle strade non so se di Tokyo o di chissà quale grande città giapponese con un montaggio a dir poco frenetico con la macchina da presa che si muove veramente all'impazzata veramente il film attraverso una forma che è sempre più mutevole e allo stesso tempo sempre più disarticolata spezzata riesce a comunicarci proprio quella che è l'essenza viene perfettamente rappresentata sul piano cinematografico l'essenza di quella creatura l'essenza della paura che anima il regista Tsukamoto quindi veramente Tetsu è un film particolarissimo stranissimo estremamente bizzarro feroce disturbante ma è anche un film che riesce con una grande creatività a parlarti di molte cose di molte tematiche riesce a suscitare delle paure delle ansie delle riflessioni che secondo me sono tutt'altro che banali quindi Tetsuo è un film che assolutamente dovete vedere e penso che questa sia l'edizione giusta sia il prodotto giusto per poter conoscere questo grande film quindi acquistando questo prodotto cogliete secondo me l'occasione al volo per poter conoscere questo grande film e per poter avere un oggetto di indiscutibile valore cioè guardate qua anche qui la slip che è curatissima è anche bella solida poi abbiamo il booklet eccolo qua né uomo né ferro lo devo ancora leggere non ho visto nulla al suo interno ma ci sono delle immagini abbastanza agghiaccianti come questa per esempio guardate che faccio vedere meglio eccola qua sembra veramente è arte moderna a tutti gli effetti ci sono ci sono anche le immagini delle locandine dell'epoca cioè dell'89 e del 92 questa qui è l'immagine anche della copertina proprio della slipcase e poi abbiamo la confezione che contiene i due film ecco qua fantastico veramente un prodotto di livello eccezionale e arriviamo all'ultimo articolo che è una sorpresa perché io nel pacco dove era presente Tetsuo ho trovato il postino di Michael Radford film del 1994 che io in realtà già possiedo però ho il DVD di un po' di tempo addietro e siccome il Blu-ray è stato rimasterizzato le immagini sono divenute più nitide eccetera a me non può fare altro che piacere poter fare l'upgrade con questo prodotto che tra l'altro al suo interno ha un sacco di contenuti speciali io vedo tra gli extra c'è il making of ci sono le scene alternative l'intervista a Gianna Gisi e l'intervista a Lorenzo Baraldi e poi all'interno c'è pure un booklet inedito di 20 pagine che ora andiamo a vedere ecco qua allora qui c'è il film e qui c'è il booklet inedito faccio vedere meglio così ecco il postino Mario i disegni con Beatrice Russo la bellissima e eroticissima Maria Grazia Cucinotta i disegni del paesino vedete molto molto bello molto interessante le scenografie insomma è veramente bello veramente bello e che dirvi io sono contentissimo che la CG mi abbia fatto questo omaggio perché veramente non me l'aspettavo e poi mi ha regalato un film che io adoro ora sono diversi anni che non vedo più il postino però è un film che io ho sempre amato mi piace tantissimo il rapporto che c'è tra Mario questo postino questa persona molto umile e apparentemente semplice o meglio più che semplice potrebbe sembrare sempliciotto ecco che è un'altra cosa essere semplici non significa non è un qualcosa che deve avere un'accezione negativa il sempliciotto invece sì ecco lui può sembrare un po' sempliciotto in realtà è una persona dotata di una grande sensibilità è una persona che è in grado di porsi degli interrogativi molto semplici ma allo stesso tempo estremamente complessi o quantomeno che necessitano di una risposta tutt'altro che banale e dicevo il bellissimo il rapporto fra Mario cioè il nostro postino e Pablo Neruda che è interpretato dal grande Philippe Noirier tutto è ambientato all'interno di questa ambientazione isolana un'isola a largo delle coste campane se non ricordo male e è una storia di amicizia una grande storia di amicizia è anche una storia d'amore perché comunque Mario nel corso delle sue giornate che trascorre in questo luogo bellissimo per carità fantastico dove però anche lì come nei basilischi sembra che non succeda mai nulla di nuovo l'arrivo del poeta Pablo Neruda un artista politicamente anche molto impegnato in polemica pure con il governo cileno eccetera eccetera il suo arrivo fa anche un certo scalpore suscita scandalo e così via ecco oltre alla sua amicizia c'è anche l'amore per Beatrice Russo questa bellissima ragazza tipicamente meridionale interpretata dalla cucinotta che diventa anche appunto la fonte di ispirazione del nostro postino perché appunto le conversazioni con Pablo Neruda vertono sull'amore sulle donne ma anche sull'arte sulla poesia e Mario che fino a quel momento non aveva avuto occasione magari di dimostrare questa sensibilità ecco grazie all'amicizia con il grande poeta cileno riesce a far germogliare questa meravigliosa pianta questo meraviglioso dono questa predisposizione all'arte questa capacità di comporre poesie ma soprattutto questo talento nel riuscire a trovare la bellezza nel creato in ciò che si para davanti ai suoi occhi a decantarla attraverso appunto la poesia che poi la poesia non è necessariamente un testo scritto la poesia può essere anche una giornata al mare può essere una registrazione possono essere dei suoni può essere un nome quello di Beatrice Russo appunto la poesia è un po' ovunque è un elemento veramente panico ed è una delle cose più belle che noi possiamo trovare all'interno del film che è un po' il testamento artistico se vogliamo di Massimo Troisi l'attore napoletano ebbe appena il tempo di concludere il film e poco dopo insomma lui morì per un attacco cardiaco nel film stesso le vicende di Mario si concludono probabilmente con la sua morte quello sguardo finale perso tristissimo di Philippe Noiré è anche un omaggio proprio verso il grande attore napoletano ed è un film che assolutamente secondo me merita di essere visto di essere posseduto di essere amato veramente il postino è uno di quei film che io mi porto sempre con gioia nel cuore quindi se avete l'occasione di acquistare questo titolo fatelo acquistando sul sito della CG e se ancora non lo avete visto fidatevi datemi fiducia compratelo e guardatelo perché vale assolutamente merita assolutamente i soldi della spesa quindi ragazzi questi sono i titoli che ho ricevuto dalla CG ultimamente fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate se avete già visto questi film se già li possedete commentate condiviete il video iscrivetevi al canale mi raccomando se non l'avete ancora fatto e ci rivediamo alla prossima occasione ciao a tutti